Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com. Abbiamo visto una seduta oggi, venerdì 17 febbraio, abbastanza critica, in particolare per quello che riguarda gli indici europei, si sono disegnate delle candele potenzialmente negative. Se andiamo a guardare la candela relativa assoluta di oggi per il Futsimib, infatti mostra un piccolo real body, ovvero la parte compresa tra il valore di apertura e quello di chiusura molto ristretta e tutta concentrata nella parte alta del range della candela e invece una coda decisamente lunga orientata verso il basso. Questa tipologia di candela appunto che va sotto il nome di impiccato può essere, non necessariamente deve essere, un segnale con la sua presenza può segnalare l'inizio di una fase ribassista. Vi ricordo che quando si parla di candele particolarmente significative bisogna sempre attendere la conferma per avere un segnale, ad esempio qui in questa seduta avevamo visto ancora una volta comparire una candela Hanging Man ma il fatto che i prezzi nella giornata successiva, cioè il 6 febbraio, non fossero scesi sotto il minimo della precedente che non aveva mai completato il pattern e quindi diciamo che si è sollevato un allarme ma poi di fatto non è stato in questa occasione inviato un segnale di vendita. Pertanto settimana prossima solo se i prezzi sono scendendo di sotto di area 27,4,60 in quel caso ci potrebbe essere il rischio di avvio di una fase di ripiegamento. Notiamo che c'è un gap rialzista aperto il 7 febbraio, ha una base intorno ai 26.930 punti quindi quello potrebbe essere un primo supporto verso il quale potrebbero dirigere i prezzi. Questo è il grafico dell'Eurostock 50, qui la candela Hanging Man è ancora più evidente, ovviamente la coda verso il basso è ancora più pronunciata rispetto a quella che abbiamo visto sul Fuzzimib. In questo caso aspetterei anche la violazione della media mobile esponenziale a 20 giorni che passa a 4.215 per dire che il pattern effettivamente sta segnalando l'inizio di una fase correttiva. Primo supporto intorno ai 4.100 punti dove abbiamo questa area orizzontale che già si è dimostrata importante nel recente passato. Nel mercato francese, quindi se andiamo a guardare il CAC 40, troviamo addirittura una candela Dragonfly Doji. Vedete in questo caso il Real Body, quindi lo spazio di apertura e chiusura, si è ristretto quasi ad una linea orizzontale e c'è una lunga coda verso il basso. Questo tipo di candela compare raramente, ma quando compare è abbastanza grave ancora una volta però solo con la violazione della sua base, quindi con discese sotto 7.267 potrebbe venire attivata una discesa che come primo obiettivo avrebbe quello dei 7.000 punti. Quindi abbiamo visto tre gradazioni con il Fuzzimib, una Real Body piccolo ma non piccolissimo, è una coda non lunghissima. Nel caso del Rostox invece la coda è molto più lunga, il Real Body si è ancora ristretto. Nel caso del CAC 40 il Real Body è quasi scomparso e la coda è molto lunga. Quindi diciamo che tutti e tre i mercati sembrano dare un segnale potenzialmente negativo con gradi diversi di gravità. Se guardiamo il mercato americano, non troviamo candele particolarmente preoccupanti, c'è però questo rischio, vedete questo è la S&P 500, che questa fase vista dal massimo di inizio mese si dimostri un doppio massimo. Siccome questi due massimi non sono perfettamente allineati bisognerà aspettare che i prezzi scendano sotto la base di questo canale dalla modesta inclinazione negativa per dare un segnale vero e proprio di debolezza. Direi che si può aspettare la violazione della media mobile esponenziale a 200 giorni, che è quella rossa che passa a 4.021 punti per dire che è partita una fase correttiva ribassista. L'ampiezza del canale che è circa 130 punti potrebbe essere il dare una misura del target. Quindi sotto area 4.020 avremo un obiettivo poco sotto i 3.900 punti almeno inizialmente, quindi andrà a testare questi minimi. Sul Nasdaq 100 abbiamo una situazione simile, anche qui c'è una sorta di doppio massimo, i massimi non sono perfettamente allineati, i massimi che sono stati toccati a inizio febbraio sono sul 38,2% di ritracciamento del ribasso che abbiamo visto dai massimi di fine del 2021, di novembre del 2021, si tratta di una resistenza molto importante senza il superamento della quale questo rimbalzo, visto dai minimi di dicembre, rischia di dimostrarsi solo una correzione temporanea. Vi ricordo che fino a che il 50% almeno di ritracciamento non è alle spalle, chi comanda è il trend precedente, cioè il movimento al quale stiamo assistendo va considerato un rimbalzo correttivo, quindi temporaneo. Infine diamo un'occhiata al Bitcoin, non tanto per considerarlo come uno strumento sul quale operare, ma perché è un ottimo indicatore di sentiment. Il massimo di ieri si è scontrato con i massimi di agosto e le ha testati perfettamente da quei livelli si è avviata una brusca discesa, vedete che la candela di ieri è anche in questo caso una candela molto significativa, uno shooting star, simile a questo che era comparso nella prima seduta di febbraio, c'è anche qui nel massimo di dicembre, lo abbiamo visto anche qui nei massimi di agosto, diciamo che è una tipologia di candela che su questo grafico compare spesso e di solito non fa grossi sconti, cioè normalmente viene poi confermata. E anche guardando con le onde di Elliot si potrebbe vedere un movimento in 5 ormai completato, perché se prendiamo questo massimo di dicembre come il picco dell'onda 1 e utilizziamo l'ampiezza del movimento novembre-dicembre come unità di misura proiettandola dal minimo di potenziale onda 2 per 2,618 volte, quindi per questo rapporto ai Fibonacci otteniamo il target di onda 3 e se proiettiamo sempre l'ampiezza di onda 1 dal minimo di febbraio il target più o meno si posiziona intorno ai massimi di oggi, quindi ai 24.500 punti. È vero che ieri siamo andati un po' oltre, però è anche vero che dopo aver toccato 25.000 i prezzi sono tornati rapidamente indietro, quindi siamo in un'area target per quello che riguarda il movimento impulsivo partito dai minimi di novembre. Il che vuol dire che sopra i 25.000 ci sarebbe un bel segnale di forza, ma fino a che stiamo sotto quei livelli c'è il rischio che l'impulso sia terminato. Da non sottovalutare i segnali che vengono dal grafico del VIX, l'indice della volatilità delle opzioni sullo standard PUR 500, in questo grafico abbiamo a candele il VIX e questa linea continua invece è il grafico dell'SMP 500, la cui scala la troviamo qua a sinistra invertita, quindi diciamo che come vedete dall'indice di correlazione che è riportato qui in alto, calcolato a sei mesi, la correlazione tra i due strumenti è negativa, in questo momento vale meno 0,7, l'indice di correlazione può scendere fino a meno 1, ma meno 0,7 è già molto significativo. Questo vuol dire che se il VIX sale l'SMP 500 scende, ve lo faccio vedere solo un secondo con la scala normale, non invertita, vedete, si vede proprio molto bene nelle ultime settimane questo andamento a forbice e se andiamo a guardare il grafico del VIX possiamo riconoscere metto un attimo quello dell'SMP 500 in grigio chiaro così non dà fastidio e possiamo riconoscere un potenziale testa spalle rialzista, vedete, questa sarebbe la neckline e in caso di superamento di area 22 il testa spalle verrebbe confermato e in quel caso ci sarebbe una probabilità di vedere il VIX ritornare almeno fino in area 25, 80, 26 e di conseguenza di assistere ad un calo significativo dell'SMP 500 quindi VIX è da seguire con grande attenzione e sarebbe da guardare con sospetto il superamento di questa neckline se volete tracciare la linea per poi controllarla in autonomia è quella che unisce il massimo del 19 di gennaio con il massimo del 10 di febbraio vi faccio notare che sia il 19 di gennaio che il 10 di febbraio sono due candele shooting star e entrambe hanno avuto effetto perché la violazione della base poi per entrambe si è sviluppata una fase ribassista direi molto decisa vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima con il nostro consueto commento giornaliero grazie a tutti grazie a tutti